ciao sono Alessandro Mariani oggi voglio cucinare con voi i nostri pasticcini che in realtà noi li chiamiamo pasticcini sempre per la forma ma è spinaci e tacchino al pistacchio oppure pollo invece di metterci il pan grattato in quanto noi facciamo tutto per sceria c'è chi mi segue lo sa invece di metterci il pan grattato noi ci mettiamo le mandorle con il pollo che sta molto bene è semplicissimo è veloce i bambini ci vanno matti perché in realtà quando la mandorla o il pistacchio si riscalda e si cuoce un po diventa croccante ed è meraviglioso però vi posso assicurare che è buono anche per gli adulti si mette al forno se quando arrivato a 180 gradi ci si mette un pochino di olio di oliva e si cuoce in 15 minuti una volta tolto si può mangiare immediatamente buon appetito